Le autorità federali hanno avviato una caccia all'uomo tra gli stati per William Butcher. Se trovate William Butcher o uno dei suoi complici, Marvin Milk, Hugh Campbell o quest'uomo, chiamate il numero 18880Crimine. Il mondo ha ancora bisogno di supereroi. Adesso andiamo tutti a fare fuori quegli stronzi. Siamo famosi ora. Tranquillo. Papà è tornato. So che ne abbiamo passate tante insieme. È un vero casino. Siamo gli uomini più ricercati del paese. Allora qual è il tuo piano? L'adorerai. Mi prendi sempre per il culo. So già che non l'adorerò. Ok. Voi idioti siete fortunati che sia arrivato io. Travegar la Alberta. Travegar la forma aprile. Sì. OgIN' Grazie. Grazie.